Bologna Udinese è storia, tifosi bolognesi e tifosi dell'Udinese appunto finisce 1-1 il match delle 15 del Dallara sorprendentemente in parte ma secondo me anche no. Nel senso che abbiamo visto, abbiamo analizzato e abbiamo anche detto nella live di ieri che comunque in questo particolare momento della stagione le squadre che devono tirare su punti per salvarsi possono essere molto più pericolose di quelle che si affrontano invece nei big match, quindi nelle big di Serie A. E così è stato anche oggi, un Udinese che da una parte ha rubato, dall'altra non ha rubato nulla, nel senso parlo di risultato e di merito sportivo ovviamente non di episodi arbitrali. Poteva fare il colpaccio, poteva fare il colpaccio al Dallara assolutissimamente sì, non è stato capace perché? Perché comunque le scorie di una stagione non brillante, non positiva e estremamente al di sotto delle proprie possibilità gli ha fatto venire il braccino corto. E poi ragazzi, oggi il Bologna per l'atteggiamento che ha avuto da quando è rimasto in 10 e comunque da come ha approcciato il secondo tempo ha strameritato il pareggio e dopo il pareggio avrebbe anche meritato la vittoria. Poi nel finale qualcosa è rischiato perché con quel palo di Davis che ancora trema il Bologna poteva perderla ma, parliamoci chiaro, non cambiava nulla al Bologna 1.0 in questa partita. Voleva vincere perché voleva essere terzo ma la Juve casca sempre in piedi ragazzi, la Juve casca sempre in piedi e oggi il Bologna toppa la partita nel senso che non è stato un Bologna fantastico nel primo tempo. Ovviamente da romanista ragazzi è un risultato che mi fa piacere tra virgolette perché comunque potendo vincere oggi a Napoli, se riusciremo a vincere oggi a Napoli la Roma potrebbe essere nuovamente a meno 2 dal Bologna. E ricordiamoci che appena una settimana fa dopo Roma-Bologna la Roma era a meno 7 dal quarto posto e dal Bologna a cui comunque vanno fatti i complimenti perché oggi prende i gol in un momento particolare della partita. Cioè a fine primo tempo su un errore di impostazione di Freuler dal basso, una mezza carambola e poi anche il gol è un pochino fortunoso quello di Pacero perché arriva in anticipo su posce ma la palla prende una traiettoria strana e entra. E quindi prendere gol come prese la Roma la settimana scorsa proprio contro il Bologna alla fine del primo tempo in una partita così tesa in una partita in cui non ti riesce molto di quello che ti riesce solitamente può essere una mazzata e rischiava l'Udinese di fare il colpaccio proprio come all'andata dove probabilmente il Bologna giocò la peggior partita della stagione. Penso che possiamo essere tutti d'accordo al Blue Energy all'andata dove finì 3-0 per i ragazzi che allora erano allenati da Cioffi, non so se erano già allenati da Cioffi, non mi ricordo. Vabbè comunque questo ha poca importanza ai fini del risultato e della partita di oggi. Un Bologna che però poi dopo essere passato in svantaggio il secondo tempo ha avuto l'approccio giusto. L'approccio giusto fino a poi a quella doppia munizione un pochino ingenua di Beugema che con il primo giallo avrebbe saltato la partita di Torino che è una partita comunque molto delicata per il Bologna perché anche il Torino si sta continuando a giocare qualcosa anche se oggi è andata a prenderle a San Siro perché comunque ha giocato contro i campioni d'Italia e Beugema secondo me quando non gioca a Calafiori e giocherà a Calafiori quindi perché poi insomma Calafiori-Lukumi sarà penso la coppia di centrali nella prossima partita a meno che Motta non ci delizi con qualche sua chicca come è solito fare. Sicuramente da lì era uno slide indoors importante della partita e mi aspettavo un Udinese all'arrembaggio per fare il secondo. Questo non è assolutamente accaduto anzi il Bologna ha iniziato a giocare meglio dell'Udinese a dare ritmo alla partita poteva segnare in altro modo poi segna con un evidente errore del portiere ragazzi perché a questi livelli una palla così lenta perché ragazzi la traiettoria era insidiosa ok tutto quello che vi pare ma era un campanile alto alto, un portiere alto come Ocoglie ma purtroppo scarso deve leggere quella palla lì perché questi sono per le squadre che si devono salvare dei momenti importantissimi della stagione cioè un errore così pesa tantissimo nell'economia di una squadra. Trova il gol e da quel momento in poi il Bologna poteva segnare il 2-1 perché ha avuto un paio di giocate importanti mi pare una con Salemakers sicuramente non mi ricordo se l'altra con Orsolini comunque è arrivato con molta facilità a ridosso dell'area di rigolo dell'Udinese che si è impaurita a cui è venuto il braccino corto e ha rischiato di perdere una partita che poteva vincere e doveva vincere per la classifica perché così l'Udinese non ha fatto nulla praticamente oggi con il punto di oggi ovviamente ci si aspettava un Bologna all'arrembaggio, arrembante ed oggi un pochino ha deluso le aspettative però ci può stare di toppare una partita che però è diventata un altro tipo di gara dalle espulsioni di Beukami in poi io il primo tempo non l'ho visto tutto molto bene quindi mi soffermo molto su quello che ho visto nel secondo tempo perché poi diciamo la partita si è evoluta e sicuramente si è rinvigorita nel secondo tempo nel primo tempo c'è stato un parziale equilibrio con un paio di occasioni dell'Udinese e una del Bologna però molto equilibrio, molto molto equilibrio nel secondo tempo invece i ritmi si sono alzati e il Bologna ha cercato di padroneggiare la partita come fa di solito però oggi c'è la meno fluidità nel giropalla come se il Bologna inconsciamente oggi si sentisse più forte e avesse un pochino sbagliato l'approccio e lo schiaffo dell'espulsione di Beukami che poteva mettere davvero in difficoltà il Bologna perché perdendo comunque devi sempre pensare in una possibile vittoria della Roma a Napoli come anche una sconfitta però potenzialmente una vittoria dell'Udinese oggi e una vittoria della Roma oggi pomeriggio comunque la Roma andava a meno uno e questo comunque poteva pesare anche se ripeto il Bologna ha già fatto un miracolo e oggi ha dato l'ennesima dimostrazione di essere comunque un gruppo solido che ci crede, che crede nei propri principi di gioco, i propri principi morali, i propri valori e si è visto tutto dall'espulsione di Beukami in poi perché il Bologna da quel momento in poi non ha fatto più uscire l'Udinese dalla metà campo e ha preso il predominio della partita, ha avuto in mano lo spartito tattico, tecnico di questa gara e la qualità poi è venuta fuori perché quando l'intensità dell'Udinese si è abbassata come succede spesso tra due squadre con tasso tecnico differente è uscita fuori tutta la qualità immensa del Bologna oggi Sirsé soprattutto nel primo tempo non ha fatto una gran partita ragazzi però quando ci ha fallo in mezzo ai piedi ha fatto due o tre giocate anche oggi di una qualità, di uno strapotere fisico e tecnico di un'altra categoria è un pareggio che lascia la mano in bocca perché come dicevo all'inizio video cioè la Juve cade sempre in piedi praticamente cioè la Juve rischia di riuscire nell'impresa di arrivare terza non meritandosela perché con questo giro di ritorno ragazzi tutto si merita la Juventus strana di arrivare in Champions League perché Roma, Bologna, Atalanta tutte e tre in fila se lo meritano molto di più e poi si sta facendo sotto la Lazio che ieri sera ha vinto quindi insomma una lotta Champions che potrebbe regalarci delle questioni molto interessanti sperando anche nell'Europa League di Atalanta e Roma perché una delle due vincendola o comunque con una finale tutta italiana avremo la sicurezza addirittura del sesto posto in Champions League e questo ragazzi sarebbe veramente clamoroso in un campionato dove tante grandi hanno rischiato di rimanerne fuori o comunque non hanno fatto proprio del loro meglio per meritarsela pieno la Champions l'anno prossimo cosa che invece ha fatto assolutamente il Bologna un pareggio che ci può stare come quello che fu a Monza come quello che fu col Frosinone insomma dei pareggi che ci possono stare nel complesso oggi forse il più meritato perché forse è la partita in cui il Bologna ha giocato un pochino peggio lasciatemelo dire, consentitemelo però ragazzi il calcio è questo cioè nel senso settimana scorsa e una settimana fa parlavamo di un Bologna stratosferico all'Olimpio contro la Roma oggi parliamo di un Bologna che ha giocato bene e soprattutto in 10 ha dimostrato di essere più forte l'Udinese e magari di meritare anche la vittoria poi si è salvata nel finale con il palo la doppia occasione dei due attaccanti dell'Udinese però tutto sommato un pareggio che nel complesso oggi ci può anche stare e che il Bologna si tiene stretto vista anche l'inferiorità numerica ovviamente tifosi del Bologna e non iscritti al canale e non scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate lasciate un bel like attivate la campanella condividete il video e iscrivetevi a questo canale continuiamo a crescere tutti insieme adesso rimanate a preparare aperitivo, spritz e poi ci vediamo nel post partita di Napoli-Roma dal vostro anno un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video